Ho scoperto un sito di feticisti dove mettono i piedi e ho scoperto che c'è una serie di foto dei miei piedi Ma sei serio? Si, si chiama Malfoot Forum Community E cosa scrivono di te scusa? Ah non lo so E cosa commentano? Dei piedi ma non mi piace Un paio di storie interessanti Ma sicuro c'è anche di te Chiara Scusa fammi leggere, fammi leggere Oddio guarda bello Cosa è scritto? Ero venuto sul forum Proprio per Solo ad annusargli il piede e il pacco Io, vabbè questo è uno stacchetto sui piedi che posso Pare variangere alla figlia di Fantos Muschio selvaggio Il podcast musico Federico Muschio, microfono, videocamere, luci Ospiti diversi, senti nuovi amici 20 minuti, un'ora di argomenti Risa, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, piante, rispetto, sincerità e approfondimenti Siamo negli anni venti Muschio selvaggio Piccolo massaggio La droga I coriandoli I sassi I sassi Coriandoli Bella Vicenza Le luci Le luci E quanto è bella Vicenza Ci sono i sassi Allora, ma tu non puoi sederti a un tavolo e dire cosa non possiamo dire Nel momento in cui accetti di sederti No, muore Ma il cellulare lo... No, io sono d'accordo con Chiara No, io no Sono andati facendo anche io delle domande Come si dice, chiamano gli uomini che stanno, sono sottomessi alle donne I? I sottomessi? No, va di modo adesso Ma io non sento niente Veri uomini No I slave Come non senti niente? Nel... Qua non sento È lì Ah, è scollegato Zoomata stretta su di me, per favore Oggi abbiamo con noi un'ospite esclusivissima Chiara Ferragni Direttamente dall'Italia Com'è stato il viaggio per venire? Da Milano Sì È stato ok, veloce Ma com'è il tempo da te, dalle tue... Era soleggiato, simile, molto simile Zona City Life era molto... Sì, beh... Beh, tira vento da quella parte No, anche tu abiti a City Life Sì, anche tu? Sì Non ci siamo mai visti No Anche Piano Abiti All'ultimo Io eviterei perché siete tutti e due sposati E queste cose sono... Ci siamo filmati Meglio non... Non far sapere che... Vi piacete veramente Hai ragione Hai ragione Comunque... Ma dovevi fare una presentazione? L'ho fatto Ho detto Chiara Ferragni, bastava Ma io pensavo che dicevi... Ma dai, no, dovevi farmi... Sette volte disco di platino No Sì, una volta disco di platino Lo assicuro perché Sì, sicuro Appena ho fatto una canzone con Baby K Baby K li fai, disco di platino Perché mi hai guardato come se io non li facessi No, ti guardavo E che è più scomodo se guardo Martino Sembrava... No, no, non ti sto distruttando Anche tu hai fatto dei dischi di platino Ok, grazie Comunque Un case study di Harvard Esatto Una delle primissime influencer Ha quasi inventato il mestiere di influencer Dicci poco Secondo Forbes La donna più influente nel mondo della moda Nel mondo Cioè sotto di lei È brutto che lo dica io Ci sei tu Sotto di lei c'è Rihanna Credo che rientri nella categoria delle donne No, è una battuta sessuale Ci sono anche gli uomini Nelle persone più influenti nella moda Sì, sì, no Dico nelle donne Vabbè, lascia perdere No, ma è nelle Credo che sia le personalità Che comprenda sia uomini che donne La mia era nella classifica femminile Tu sei stato un uomo Nella donna Nella classifica Delle donne più influenti Giusto, ok Però per interesse c'è Rihanna sotto di lei Mi viene in mente solo Rihanna Quindi ripeterò solo Rihanna Sotto Poi Rihanna Sotto Beyoncé Beyoncé E Complimenti Chiara Grazie E questo è tutto È tutto Spero mi sia piaciuta l'intervista No, ecco oggi ci ha detto Chiara che ha fatto una roba come Sette interviste in poco tempo Sì, no, in poco tempo No, 12-13 in sette ore Era tanto tempo E per chi non lo sapesse Quando ti fanno un'intervista Soprattutto quando dedichi una giornata alle interviste Ti fanno tutti le stesse domande Certo E quindi Chiara è superstita da un'intervista fatta di ripetizioni E noi cercheremo di farti esattamente le stesse domande No, fate delle domande diverse Sì, la scomodità Ma in realtà possiamo anche non far domande La scomodità che hai Vi conoscete voi? Un pochino Di vista Ed è pericoloso perché Cioè, ci sono pochi segreti tra voi Quindi cosa le chiedi a tua moglie? Cioè, l'intervista ricade su me e Martin Eh, però no, io ho delle Lui interverrà con proprio No, io ho delle curiosità da esporre rispetto alla figura Di Chiara Ferragni Che è vero Ok Perché è un discorso di cui in casa non si dibatte Però non diventare il manager Adesso noi che stiamo Ma che manager volevo dibattere rispetto a delle cose Che avvengono nel mondo della comunicazione intorno a lei Che è bello condividere con voi e dibattere su questo Questa è Chiara? Uh Ho messo perché voglio sfruttare questo schermo Sennò è uno spreco È vero Giusto Giusto Guarda Guarda c'è anche Coniugio Fedez Dal 2018 Io c'ero, eh Io c'ero Esatto C'erano i fuochi d'artificio Bellissimo I coriandoli Era bellissimo C'erano i coriandoli Le luci I sassi I sassi Tu sei nata a Crema A Cremona Cremona Però è lì vicino Cremona è più grande È più grande di Cremona Cremona Incredibile C'è Cremina Incredibile Incredibile ma vero A me non confina con Tortona Esatto Infatti tu sei dolce comunque come persona Sono molto dolce Ma vero Luiz mi conosce L'hai detto veramente Sei di Crema Quindi sei dolce Ma perché no Perché Luiz mi conosce Cioè quanto sono dolce Sei dolce infatti Rispetto a Fede sono molto più dolce Sì Fede è rozzano Rozzo proprio Rozzo Cremona Rozzano Proprio Ti fa capire proprio le differenze The beauty and the beast Caratteriali Esatto No infatti siete Mi piacete voi Mi piace questa cosa Grazie La coppia Grazie Ho visto le vostre cose Instagram Le cose Bravi Ti seguo Leo Bellissimo Bambino più bello del mondo E ho anche dei saluti da parte di un sacco di persone che spesso mi fermano e dicono Saluta Fede Saluta Chiara Vi saluta Prima uno in Duomo vi ha salutato Ti saluta una ragazza Prima ti salutava Saluta E adesso Tipo tu Bardin che curiosità hai nei rispetti di Chiara Oddio avevo in mente una domanda proprio che te l'avranno fatta 50 volte Ok dimmi Ma non è una mia curiosità in realtà Semplicemente pensavo le domande scontate banali Esatto Quali possono essere? In testa tutte mi viene in mente come fai a conciliare il lavoro di imprenditrice digitale con il fatto di essere madre e donna Esatto quello sempre Però vabbè quello è interessante perché naturalmente non è una cosa facilissima Poi io sono in una situazione molto privilegiata perché abbiamo i nonni che ci aiutano tanto Abbiamo una tata comunque che ci aiuta e quindi riesco naturalmente per me il lavoro è super importante Quindi riesco a... naturalmente ci sono dei giorni in cui prediligo la famiglia il tempo con la mia family E altri giorni in cui devo prediligere il lavoro naturalmente Hanno fatto anche un film sulla tua vita direttamente Però devo dire che devo tantissimo al mio team perché abbiamo un team veramente... Pensavo a tuo marito Anche a mio marito per conciliare per la parte personale sì devo tanto a mio marito Che ti ha ispirato a fare il lavoro che fai Sì come in che senso? Sono stata la tua grande fronte di ispirazione Va bene Ok Tu hai iniziato... Instagram non esisteva quando tu hai iniziato a fare l'influencer Dov'è che pubblicavi? Pubblicavo su... vabbè prima di tutto c'era questo sito in cui hai iniziato tutto Che era però questo ai 16-17 anni che era 2.0 Che era una specie di community di ragazzi di Milano Incredibile 2.0 Tu lo usavi? E lui lo usava L'abbia scoperto Me ne parlavi Ragazzi 2.0 è stato... Che la voce basta? Perché devo creare Pantos? 2.0 è stato Facebook Anteliteram Esatto E il creatore di 2.0 lo conosce lei e lo conosce... Cioè io sapevo chi era Uno dei due Perché era fidanzato al liceo con una che veniva in classe con me, a scuola con me E immaginate che questo ha avuto nelle mani Facebook ed è riuscito a non guadagnare un cazzo Ci vuole del talento Erano due in realtà Poverino Due, non uno, due avevano in mano Facebook e ho detto cosa facciamo? Lo chiudiamo No Sì, pensa che è brutto Sì, non mi ricordo come sia andata però dopo col tempo è diventato sempre meno cool e poi è stato chiuso E lei era questo social network che era molto simile a Facebook Avevi un tot di foto massime che potevi pubblicare quindi se ne volevi pubblicare una nuova dovevi cancellarne una delle vecchie Avevi comunque dei like lì, mi ricordo Avevi like, potevi commentare le foto Non c'era un modo di messaggiare privatamente, cioè c'era una specie di wall, era tutto pubblico Oddio, terribile Se no dovevi darti i contatti e poi cominciare a parlare su me E la cosa incredibile è che c'era la classifica dei più popolari, uomini e donne Che pressione Terribile E lei? Black Mirror Lei era la più popolare Una delle più popolari a momenti Sotto c'è la Rihanna Sono simpatica E c'era anche Fede in realtà abbiamo scoperto Però non ci siamo mai messaggiati Non mi cagava nessuno, non ero tra i più popolari Ed eravate sotto nickname, falso nome Sì Era Diavoletta 69 Ma va, non 69 No, cosa era? 87 Che sono dell'87 Ah, Diavoletta? Sì, vabbè, era una cosa da... Beh, molto anni di vanilla Esatto Tu quando sei cresciuta c'era ancora il periodo truzziemo Sì, di brutto E tu cosa, su che parte eri? Non ero nessuno, ero un po'... Quando ero piccola piccola ero un po' alternativa Cioè volevo essere un po' punk Però non lo ero veramente Quindi ero un po' ghettizzata comunque dalla mia compagnia Perché invece loro erano più punk alternativi Al liceo Che poi era... Cremona è molto alternativa così come ambiente E... Mentre invece negli anni di Milano Boh, no San Carlina Non ero proprio San Carlina Sì No, ero un po' fighettina San Carlina Eh, si dice così A Milano... Viene dai ragazzi che frequentano il San Carlo Che è questa scuola privata Scuola privata E come dire pariolini Sì, esatto Sì, esatto E poi da lì è nato tutto questo stile Che sono le polo Cos'altro avevano i San Carlini? Le magliette di Brandy Le cinture di Carhart Le scarpe Cosa mettevano le scarpe? Ma che cazzo ne so, amore? Le adidas con le tre stile bianche Forse Non lo so Quello non mi ricordo Tu hai avuto la possibilità di vivere migliaia di vite nella tua vita E tuttora lo fai, no? E cosa ti ha spinto a scegliere di vivere questa vita in Italia E non all'estero? Beh, ho vissuto cinque anni all'estero comunque a Los Angeles Perché sono arrivata in un punto in cui Mi sentivo Milano un po' piccola E pensavo che veramente per fare successo Comunque anche in Italia Comunque per fare avere un successo internazionale Perché ho sempre scritto sia in italiano che in inglese Ho sempre cercato di avere un pubblico molto internazionale Grazie a tutti i lavori Grazie al fatto che quando ho iniziato il blog Veblon Salad nel 2009 Ero a Chicago, eccetera Comunque ho sempre cercato di avere questo pubblico Non solo italiano Non ho mai voluto fare televisioni italiane, eccetera Però nessuno è mai profeta in patria Quindi fin quando io ero comunque based Cioè di base qua a Milano, in Italia Comunque tanti non ti prendevano sul serio E quindi avevo avuto un po' questa cosa Che dicevo no, devo andare comunque all'estero Devo provare a spaccare da qualche altra parte E sicuramente se divento anche un minimo più famosa all'estero Comunque in Italia poi sarà tutta un'altra cosa E oggettivamente, nel senso poi mi piaceva All'inizio volevo trasferirmi a New York Poi avevo cominciato a fare dei lavori a Los Angeles Mi piaceva molto lì Allora poi mi ero trasferita lì E poi c'era un ragazzo che ho frequentato per un po' di anni Che era americano Chi è? Che quindi ha reso più facile il mio passaggio Il fatto di stabilirmi principalmente lì Poi tornavo spesso, ho avuto tantissimi viaggi Però è stato bello È stato un momento molto emozionante Però devo dire che Los Angeles Nonostante sia una città bellissima Che mi ha dato tantissimo È una città molto solitaria Quindi adesso riscoprendo comunque Quando ho cominciato a tornare spesso in Italia Nel 2016 Poi ho conosciuto Fede Però anche prima Ho cominciato veramente a riemozionarmi Per le piccole cose italiane Il caffettino Mi è venuto da ridere perché hai detto Ho conosciuto Fede e mi sono emozionata Per le piccole cose Anche quelle sono emozionanti Una cosa incredibile tua Chiara È che fai sembrare davvero quello che fai facile Grazie Infatti però è un Non è un problema È un'arma a doppio taglio È perché le persone dicono Ci vuole Ma credo che i migliori facciano Facciano sembrare facile le loro cose Se guardi un professionista di basket Dici Anch'io schiaccio Guarda saltato E tu uguale Come gestisci lo stress Che è la cosa Credo che sia L'ostacolo principale Ma io non sono quasi mai stressata Cioè io me la rischio a vivere molto bene Perché faccio una cosa che amo Veramente ogni giornata Veramente mi sveglio Entusiasta di quello che devo fare Anche se sono cose ogni giorno diverse Ci sono giornate più emozionanti Altre che sono più da ufficio Eccetera Però Non so Mi sono riuscita a creare Una realtà personale E lavorativa Che mi piace tantissimo E quindi quello che faccio Veramente non Raramente mi provoca stress Ci sono giornate più stancanti A livello lavorativo Quando devi fare viaggi lunghi Poi devi stare su un set Ci sono tante cose Tanti lavoro Lavoro d'ufficio Che naturalmente non si vede Tramite i social Così E tanta responsabilità Che ti prendi Perché comunque Ho dei team molto grandi E naturalmente Le decisioni che prendi Ricadono poi Su tante persone diverse Però Non so Faccio qualcosa che Amo al cento per cento Cioè proprio Io ho sempre avuto Questa indole A condividere Parte di quello che faccio E Da quando avevo sedici anni Da quando ho scoperto Comunque i primi social Così Da quando ho avuto La mia prima Mia fotocamera digitale Mi piaceva proprio Non fare la foto di per sé Ma per pubblicarla E vedere cosa ne pensava la gente Era proprio un esperimento Sociologico In qualche modo E poi penso anche Perché crescendo Comunque a Cremona Non mi sono mai sentita Veramente parte di un gruppo Cioè mi sentivo un po' diversa Dai miei Avevo solo Un vero vero amico Che è ancora un mio amico Filippo adesso Proprio Siamo amici dal primo anno di liceo Che è molto simile a me Ancora adesso Chi è? Phil Ah Phil Vabbè Salutiamo Salutiamo Phil Salutiamo Phil E tutti gli altri miei amici Cioè nel senso Io volevo essere un po' come loro Ma ero diversa E quindi comunque il fatto Di non sentirmi appartenere a un gruppo Ha fatto sì che io dovessi cercare Non so Una risposta a chi ero Forse altrove Quindi comunque in parte è stato tramite internet Cioè nel senso è stata anche una cosa di Penso in sicurezza all'inizio Cioè voler farmi vedere dagli altri E ricevere un consenso da altre persone Perché comunque nella mia piccola comunità di Cremona Non mi sentivo così evidentemente Però non hai scelto questa strada attraverso Cioè non Non ti sei piegata al conformismo Ma hai imposto un tuo linguaggio come no? Sì quello sì Però è stato proprio un passaggio naturale Step by step Cioè non c'è niente di costruito Di pensato prima Cioè è stato veramente Dai 16 anni che avevo la mia prima macchina digitale Pubblicavo le foto e le mettevo su 2.0 Poi sono passata a Flick Poi da lì ho detto Ho visto dei blog Comunque di personal style principalmente Di stile personale Cioè delle foto di come eri vestito Di cosa facevi Soprattutto francesi, americani Ho detto vabbè mi faccio anch'io il mio blog E poi da lì è partito un po' tutto Perché è arrivato proprio nel momento giusto Ma non sapevi dove andare Navigavi a vista Era una cosa Mi piaceva farlo Però non all'epoca Ma anche quando ho iniziato il blog Mai avrei pensato di guadagnare un euro dal blog Né di poter nel senso diventare la potenza Sta benissimo col muschio Oh mio Dio È perfetto col muschio Sai cosa vuol dire? Che diventeremo miliardari con muschio Perché abbiamo iniziato così noi Noi abbiamo iniziato come Chiara No è vero Marce Perché ci siamo C'è proprio la foto di noi col muschio sulle palme Col muschio sulle palme È vero E anche noi in questo momento siamo in perdita Quando l'hai fatta Chiara? Questa l'avrò fatta nel Boh 2010 Ok abbiamo dieci anni Fede Era il secondo forse C'era Barbie il primo La prima era la Barbie dentro Questo qua Questo esatto Nel 2009 Sembra proprio una roba È il periodo tipo Lizzie McGuire Più o meno Cioè il mood è quello Mi sa di Sleepover Club Esatto Era proprio l'estetica del tempo Questo sarà stato 2009 L'altro sarà stato 2010 O 2011 Comunque Non so se notate È venuto fuori In quasi tutti i podcast Che abbiamo fatto Per eccellere Nella cosa in cui si vuole eccellere Dal bodybuilder A Giovanni Mucciaccia A Feltri Nel bene o nel male Devi avere una mancanza Da una parte E una sorta di ossessione Dall'altra Cioè Tutte le persone Che si realizzano Non si realizzano Perché Si realizzano Perché incomplete Ma chi sta bene Non fa niente Esatto È vero Non cerca stimoli esterni Se stai bene Dici beh Io sto qua Non devo Se fai qualcosa Perché c'è una sorta Di insoddisfazione Di insoddisfazione Precarietà interiore Esatto Che è proprio quello Che significa Il vero termine Di partire dal basso Solitamente viene Si porta a pensare A qualcosa di economico Cioè partire dagli Ma invece Cioè partire proprio Da una mancanza Che va oltre i denari Cioè qualcosa che ti manca Di tu Un pezzo di te Lo step dopo È abbandonare tutti gli averi Diventare tipo buddista Esatto E ti accorgi che la felicità È dentro di te Marco Columbro Chi è? Chi è? No Quello è Colombo Sì Giustoforo Ok No Un'altra cosa Che io infatti Mi è Un po' Devo dire Mi Mi infastidisce Del nostro paese No? Cioè come Retaggio Culturale Culturale Una delle sue parole Pro Come retaggio Culturale L'ingerenza della chiesa Mi pagavano con le birre calde Che vi odio Allora No è che Cavoli Se ci pensate no Una Una Chiara Ferragni Che non Se non si fosse affermata all'estero Ciò che farebbe Sarebbe Svilito a Scusami Una Una ragazza stupida Che si fa le foto Perché ancora ad oggi Nonostante Cioè Io quello Mi spiace perché c'è un conflitto di interesse Perché si sta guardando No perché lo penso davvero Ti senti osservato A questa ragazza A questa donna Le hanno fatto un business Che è in stadia d'Harvard Cioè Non so se Sapete cosa vuol dire Cioè in America impazziscono Cioè Harvard per loro è Come un Oscar In qualche modo Cioè è l'Oscar del business Non so come dire E nonostante questo Cioè Ha costruito un'azienda Da lavoro a delle persone Cioè Ha fatto delle cose Ha inventato in qualche modo Un nuovo modo di fare imprenditoria Nonostante questo La narrazione Che spesso viene costruita È di una Che si fa le foto Come se Fosse solo quello Capito E invece cavoli C'è molto di più sotto Ed è molto più affascinante Andare a vedere Cosa c'è sotto Che sminuirlo Precursora Come si dice al femminile Precursora Precurtrice Paradigma Precursi Precursita Però quello è normale Secondo me Perché ci sono tante persone Che non sanno esattamente Prima di tutto dai social E anche se lo seguendomi Non è che riesci a vedere Tutto quello che faccio C'è tanta ignoranza Che naturalmente la gente Non conosce esattamente Il mio lavoro È un lavoro nuovo Che anche adesso Quando uno mi chiede Che cosa fai È difficile da spiegare Capito Sì però ci sono dei settori Dove invece è più facile Certo Ma questo perché è un settore Anche completamente nuovo Secondo me Cioè nel senso Sono un po' Si porta dietro dei pregiudizi Tu sei stata la precorritrice Delle influencer Che ora popolano Il pianeta Terra Sì sì Ma tu ti sei dovuta Beccare tutto il Il pregiudizio Perché non esisteva E perché non è Tuttora non è compreso Certo E la sua arma vincente Precorritrice Dimmi se sbaglio amore Che è corso prima Esatto È corso prima Delle altre Esatto Degli altri La sua arma vincente In tutto il suo percorso È una cosa che si evince Dal documentario Perché in realtà Io e lei non ne abbiamo mai parlato Perché è un'analisi Che ha fatto una persona Che viene intervistata Nel documentario Chiara Ferragni Unposted Su Amazon Prime Guardatelo subito No Deve cambiare nome Il link qua Deve cambiare nome Perché ormai è posted C'è questo giornalista Che è una personalità Come cavolo si chiama Quello lì Amico delle Kardashian Quello che lo saluto Amico di tutti Famosissimo Derek Derek Blasberg Questo qui Che è tipo Uno amico di tutti Che lui dice Cavoli La sua bravura È stata che Nel momento in cui Arrivava più merda Lei sorrideva sempre Ciao E nel momento in cui Brand Lei poteva Dare la bastonata A un certo tipo di realtà Che gli avevano sputato sopra Lei Non ha La sua vendetta Era sorridere Ma è sempre stato quello All'inizio Cioè non si è accanita Capito? No ma perché secondo me Cioè qualsiasi tipo di odio Porta altro odio Cioè nel senso perché Secondo me quando tu sei una persona Cioè oggi mi avevano chiesto Fra le domande Fa come fai con gli hater E eccetera E oggettivamente Cioè per me Nel senso nel 99% dei casi Gli hater non esistono proprio Cioè anche perché tu devi sempre pensare Se una persona Cioè anche io vedo Come chiunque di noi Vedono cose Che non ci piacciono Nel online Nel quotidiano Eccetera Però vediamo uno che non ci piace Che non ci piace come vestito Non vai di lì In faccia Gli dici Mi fa schifo come sei vestito Voglio dirti che mi fa cagare Come ti vestiti Cioè capisci Sì però dall'altra parte Uno ti potrebbe dire Però tu Ti stai esponendo In una piattaforma Dove sai che ci sono dei commenti Quindi vuoi essere commentato In qualche modo Quindi è la linea sottile Ma infatti ma ci sta nel senso Dire che non ti piace qualcosa Cosa che faccio Come mi vesto I valori per cui Cioè che sono importanti Per me ci sta benissimo Però c'è modo e modo Di dire le cose Diventi un hater Quando cominci a essere Un po' stalker Pesante Cioè nel senso Se tu dici Insultare Se tu dici semplicemente Ah questa foto non mi piace O non mi piace questo progetto Ci sta benissimo Ma per me ci stanno anche gli hater Anzi fanno parte del gioco Però per essere una persona Che scrive Molto negativamente Di qualcun altro Su internet O che lo fai spesso Perché lo fai? Perché qualcosa Della tua vita Perché questa cosa Ti provoca del piacere E per questa cosa Provocarti del piacere Vuol dire che non sei Super soddisfatto Della tua vita Oggettivamente Perché se lo sei Non ti viene neanche Magari vedi cose Che non ti piacciono Ma mai ti verrebbe da dire Questa cosa mi fa schifo Tu fai schifo Ridicolo Cioè non mi verrebbe Nel senso Quindi io parto un po' Da questo presupposto Però devo dire che Scusa No 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 Che Quando ho iniziato Naturalmente nel mondo della moda Quando nel 2010 Febbraio 2010 Nella prima Fashion Week Ho ricevuto i primi Inviti alle sfilate Così che per me Erano veramente un traguardo Non immaginabile di più E avevo i primi posti standing Quindi non sedute In piedi Cioè nel senso proprio Come gli ultimi Però ero invitata a una sfilata Era già una figata comunque E in quel periodo lì Nel primo periodo Nei primi anni Mi ricordo Cioè Il primo periodo Più di tutti Ma nei primi anni Io mi scontravo quotidianamente Con persone Non solo hater online Ma hater Nella vita reale proprio Che erano persone Comunque esponenti Grandi esponenti Del sistema moda Comunque tanti giornalisti Che magari avevano 50-60 anni Che vedevano me 22enne E comunque mi facevano Dei commenti molto cattivi E la cosa che più mi aveva dato fastidio Ne parlavo anche nel documentario La cosa che più mi ha spronato Mi ha dato fastidio Mi ha fatto soffrire tantissimo Ma più mi ha spronato Era la gente che mi diceva Quella lì Come cavolo si chiama Fra sei mesi Nessuno si ricorderà di lei Dimelo in inglese Che mi gasi vai Perché? Perché Dile in inglese Mi gasa Sweet revenge Capito? Esatto E però adesso le stesse persone Infatti tanti che erano presenti Tanti di quelli che mi hanno supportato In quel momento invece Adesso a vedermi Poi che le stesse persone Che mi facevano i commentini Magari adesso vengono lì E fanno i simpatici Ti chiedono anche il selfie E io sono gentile con queste persone Perché comunque veramente Per me la rivincita migliore È essere sereni con tutti Veramente Non avercela con nessuno Questo glielo ho insegnato io Sì Siete davvero il giorno e la notte Veramente È incredibile Infatti io non me lo spiego tuttora Non voglio Però hai Tu hai proprio una Sei come illuminata È come se avessi raggiunto Eh beh Hai raggiunto una sorta di equilibrio Non so quanto tempo fa Magari dieci anni fa E da lì No però l'equilibrio Secondo me è stata una cosa Più degli ultimi anni Cioè nel senso che prima naturalmente Ero comunque convinta di quello che facevo Perché io da sempre Quando postavo E vedevo che la gente commentava E commentava Metteva like eccetera Vedevo un potenziale in questa cosa Anche se all'epoca Quando ero sui siti Non avevo idea di come si Potesse mai trasformare In qualcosa di più reale Però capivo il potenziale Quindi ho sempre seguito Questa mia indole Questo mistinto Che mi diceva Fai questa cosa Che ti rende felice E quindi forse è questa Anche la differenza Fra me e tante altre persone Che hanno iniziato Magari dopo di me Vedendo il mio esempio Vedendo l'esempio di altre persone Che lo fanno solo Per cercare di diventare famosi O di guadagnare Eccetera Quello a volte funziona comunque Però non è lo spirito giusto Proprio Secondo me Dovrebbe essere un effetto collaterale Esatto Cioè tu dovresti farlo Perché ti piace farlo Cioè io per me Quando io All'epoca poi facevo le foto Nel senso Non c'erano gli iphone Comunque c'erano i primi Facevano le foto da schifo Quindi le facevo sempre Con la macchina fotografica Le scaricavo Le Cambiavo la risoluzione La modificavo Le mettevo su blog post Che era il Portale per fare il blog Eccetera Ci mettevi una vita Cioè per fare un post Che erano le mie foto Che adesso su Instagram Ci metti veramente Cinque minuti Ci mettevi un'ora Un'ora e mezza Però in quell'ora e mezza Ero troppo felice Cioè mi piaceva troppo E poi mi piaceva troppo Pubblicarlo il giorno dopo Che erano Quasi sempre pubblicati Alle nove del mattino E vedere cosa ne pensava la gente Guardare quanti commenti Così Quindi era proprio una passione E secondo me Tante persone adesso Vabbè i social Sono cambiati molto In modo Più positivo forse Cioè nel senso che Ti danno Sono molto più democratici E danno la possibilità Tantissimi di Di essere visti Di essere notati Questa è una cosa bellissima Però al tempo stesso Tanti pensano Che questa fama Sia una fama Molto facile da avere Che basta fare Qualcosa che diventa virale Per Per fare carriera Si La critica è che sia una roba Alla fine effimera Quello che rimane In hype Adesso i tempi Nonostante il suo percorso Ormai non si può più Definire effimero Sì ma infatti Non si parla tanto Sì sì no in generale La categoria E se tu A un ragazzino Stavi finendo? No 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 Ok Se a un ragazzino Se a un ragazzino Gli proponi Di avere credo Centomila followers O centomila euro Secondo ci riflette Sì Io non ci penso Un secondo Prendo centomila euro Ma un ragazzino È quasi tutto C'è anche C'è l'elemosina Di ricevere un like A un commento Dove sta Il guadagno Dove sta È colpa tua No non è colpa tua Però Però hai alzato L'asticella Hai creato Involontariamente Perché tu hai fatto Quello che ti piaceva Hai creato Un modello Sì vabbè Lei è parte Secondo me Non sono solo io No ma c'è lui Ci sono io Ci sono No vabbè Nel mondo La cosa incredibile Che hai tu Che ho notato È che il livello Di haters Suoi A volte raggiunge Livello ossessivo Sì molto Però all'inizio Era ancora peggio Io all'inizio avevo Proprio le fanpage Le fanpage È contro Anche adesso Ha delle fanpage Ossessionate Verso di lei Fantastico Con un odio Quasi Spaventoso Quasi un amore In qualche modo Che si focalizzano Su qualsiasi cosa Cioè Qualsiasi cosa È un problema Cioè anche quando Fa una cosa Che oggettivamente È una cosa buona Riescono a trovare La cosa Ed è Ed è un amore Sì Ma per te Chiara Non esistono Non esiste Esistono più Però Posso raccontare Una storia Sì Non fare i nomi No non faccio i dovi Durante la pandemia Praticamente Noi abbiamo fatto Questa raccolta fondi In qualche modo Io ho avuto problemi Col Kodakons Varie cose Quindi Oltre che seguirla Da lontano Cercavo di gestirla Capito casualmente Su una di queste pagine Completamente Ossessionata Verso Chiara Io però Riescono anche a vedere Perché sono bloccata Da quasi tutte queste Quindi neanche leggo i commenti Neanche se volessi Non potrei Che aveva pubblicato Una cosa Riguardo alla nostra Raccolta fondi Insinuando che Fosse una cosa Dietro logica Dove noi ci volevamo In qualche modo Guadagnare Una camera Iperbarica Privata Adesso sto sparando a caso E non ce l'ho fatta Ragazzi Ho commentato No Col mio profilo Col suo profilo Ma ti rendi conto Cioè di queste pagine Che vedono Che lui guarda E commenta Infatti quando l'ho saputo Sei incazzata nera Eh beh sì Sei incazzata nera Cioè nonostante lui Era una cosa carina Però non puoi fare queste cose Non puoi dare voce A queste persone Io però Ogni tanto Non vivi la provocazione Come un invito A fare una cosa assieme A chi ti provoca Della serie Alcuni dicono Che la provocazione Sia come una freccia Che ti è stata scoccata Addosso Però è piantata lì Di fianco a te Non è che ti ha colpito Il momento nel quale Rispondi È come se la facessi tu E quindi prendi la piglia E te la ficchi Sono d'accordissimo Guardi È che io Non sono illuminato Per niente Anzi Sono un po' spento E cazzo Quando Comprendo le critiche Fine a se stesse Cioè fino a lì Riesco a fermarmi Ma quando vedo Qualcosa di Così ossessivo No Nei confronti Di una persona Che conosco E che vuole portare Verso Un racconto Della persona Che non è distorto E cioè È forzatamente distorto Verso Eh ma lì devi C'è un problema mentale È come sparare sulla croce rossa Infatti poi mi sono reso conto Che c'è qualsiasi cosa tu dica Alla fine troveranno sempre Ma guarda Il marcio Adesso che ci sono così tanti modi Per comunicare È normale che ci siano Tantissime persone Che non fanno altro Che comunicare cose Sbagliate O comunque che trasmettono Un grado di negatività Fuori dal comune Io penso che valga la pena Di sostenere quei linguaggi Che si pensa Che siano giusti Visto che Visto che ce ne sono così tanti ormai Sì sì ma infatti sono d'accordo Non c'è tempo da perdere Con certi linguaggi Ti dico Io mi fermo Mi sono fermato poi A un certo punto Quando ho pensato Dietro a un profilo Contro Ossessivo Contro Chiara Ferragni C'è una persona Che la mattina si sveglia E al posto che Cercare di Diventare la versione migliore Di se stesso E di diventare magari Qualcosa che Può scalzare Il Chiara Ferragni O può Portare un modello positivo Che per lui Può essere più positivo E propositivo Si sveglia la mattina Invece cerca di distruggere Una cosa Che non gli piace È una vita Sprecata Magari è già La versione migliore di sé Ma Non so Appunto sì Quindi è già una sconfitta Lei secondo me È stato anche il paradigma Di una cosa Abominevole A cui è reagito Non pensandoci Allora I piedi di Chiara Ferragni Io non l'ho mai detta Sta roba Però No io la trovo Una cosa abominevole Ma non per lei Non gliene mai fregato Un cazzo I suoi piedi Sì E ci ha riso sopra Tu trovi abominevoli I piedi di tua moglie No no Dei piedi brutti Però sti cazzi Non è come brutti Ma sono normali Sono uguali ai miei Secondo me Perché molte persone Non li hanno come i nostri Allora quello che è diverso È brutto Non sono super carini L'ha trovato Ma che secondo me Ma che secondo me Cazzo Come oggi Ci si indigna un po' Per tutto Cioè abbiamo un po' L'indignazione facile Su quella roba lì Nessuno ha mai detto Guardate secondo me Non perché è Chiara Ferragni Ma in generale Far passare messaggio Che si può pigliare Per il culo A una persona E renderla Un meme Un'icona Perché c'hai Dei piedi brutti Ma non sono brutti Si va bene Ok Guarda Io credo Che sia stato fatto Magari anche Per ridimensionare Riportare A una dimensione Terreno Un'immagine Che è diventata Può essere Però dall'altro lato Ha questo effetto collaterale Capito Ma poi Tutto è nato Perché in delle foto Oggettivamente Ho dei piedi tremendi Perché quando cammini O quando tipo Ti siedi Cioè tipo Le tue dita Dei piedi Fanno dei movimenti Strani O delle foto In cui sembra Che ho dei piedi tremendi Però poi li guardi Normalmente Tutta una compilation Ho scoperto un sito Di feticisti Dove mettono i piedi E ho scoperto Che c'è una serie Di foto Dei miei piedi Ma sei serio? Si Si chiama Mailfoot Forum Community E cosa scrivono di te Scusa? Ah lo so E cosa commentano? Voglio leggere i commenti Dei piedi Ma non mi piace Un paio di storie interessanti Ma sicuro c'è anche di te Chiara Scusa Fammi leggere Oddio Guarda bello Cosa hai scritto? Ero venuto sul forum Ma non lo sborro solo Ad annosargli il piede E il pacco Vabbè Questo è uno stacchetto Sui piedi Che possiamo Pare Mariangela La figlia di Fantasma Sei camaleontica Grazie Nel senso che passi Da una piattaforma All'altra Adesso sei Sei sbarcata Su TikTok Quando chiuderà TikTok Tra un mese Sarai capace Di saltare Su un'altra piattaforma E Basta No allora Luis sostiene Che Instagram Fallirà a breve Perché? Tutto fallirà a breve Ma no dai Guarda Facebook era tutto Lo so Però Instagram negli anni È riuscito sempre a cambiare È stato camaleontico Anche Instagram Però ha otto anni che esiste Secondo me Otto no di più 2011 o 10 Io ce l'ho dal 2012 Ma c'era già da prima A me piace Quando tu osservi Che i nomi degli imperatori Sono stati dimenticati Esatto Dico sempre che Anche un imperatore I più grossi imperatori Della storia Hanno fatto robe incredibili Statue Non ti ricordi neanche Il loro nome Figuriamoci Instagram Con tutto il bene Che ti voglio Però Instagram È un po' il modo Di comunicare adesso Quello è TikTok Alla fine Però Instagram È proprio quello Un po' più universale Che racchiude un po' Le diverse generazioni No? Ma io gli do Gli do 5 anni massimo Sì? E dopo cosa pensi Che succederà? TikTok meno Meno È molto più Ti ricordi Vine Ha preso il mondo Durato 3 anni 4 anni Quello non mi ero mai scritta Bellissimo Era il miglior social Che esistesse Perché non ti iscrivi a TikTok? Boh No Io avendo vissuto con voi Tante avventure Ho visto Un lato tuo Che molti non vedono Cioè nel senso Il lato tuo Umano Tu fuori dai social È incredibile quanto Intanto sia naturale Il modo in cui fai le storie Perché uno pensa Magari c'è il fotografo Professionista O c'è la crew Non lo so L'illuminazione No Il cellulare Tanta gente pensa anche che Io non faccio i miei social Nel senso che Sarebbe troppo complicato Farlo fare da un altro C'è una strategia Capito Ma tanti ci dicono Ma segui tu i tuoi social E le storie di me da sola Chi altro me le può fare? C'è nel senso Certo che seguo solo io I miei social È incredibile Infatti Sarebbe stranissimo il contrario Ma infatti Però Non lo sanno le persone E anche Quando ti siedi a tavola Tu fai sì La foto O la storia del tavolo Ma poi tu metti il telefono giù E ti godi il momento Certo E spesso ho vissuto Momenti più veri con voi Che siete i condivisori Della vostra vita Che con i miei amici Che con i miei amici Succede spessissimo Che tutti al tavolo Abbiamo il cellulare fuori Sì sì E vabbè Siamo tutti vittime Allo stesso modo Voi però Dovendo Dovendo Volendo Raccontare anche cose interessanti Avete una vita interessante Vivete delle esperienze Che anche se stai 20 minuti al telefono No ma poi rispetto alla condivisione Se tu pensi ai social Come Un mezzo E non un fine Diventano anche una risorsa Cioè vi faccio Vi faccio un esempio Quando È nato nostro figlio Con una serie di complicazioni E Sembrava inizialmente Che fosse sordo Cioè che fosse sordo Permanente a livello Neurologico E Questa cosa ovviamente Non l'abbiamo raccontata Nell'immediato Però Successivamente Ha dovuto fare un'operazione No Ovviamente parliamo di una roba Ipersensibile Che già solo al dire No A una persona Normale A mia mamma A tua mamma Parlo di questa cosa Sembra come dire No ma per quale motivo Che vantaggio ne trai Perché Ovviamente ormai L'aspetto social Soprattutto per chi Lavora su quell'ambiente Viene visto come Se condividi una cosa Deve avere un ritorno In qualche modo Economico Di popolarità D'immagine E invece Cazzo Quella roba lì Per noi che eravamo Neogenitori Ok E stavamo vivendo Un'esperienza Fuori dal comune Che nessun Nostro familiare Aveva vissuto Ok Condividerla E chiedendo Ad altre persone Che avevano vissuto La medesima esperienza È stato Cazzo Un modo Per calmarci Per condividere Con altre persone Che ci hanno detto Guardate L'abbiamo vissuta Anche noi Ed è andata In questo modo Quindi Ci ha tranquillizzato In qualche modo Cioè quando Io vi giuro ragazzi Quando io l'avevo conosciuta Mi diceva Il potere della condivisione Mi prendeva in giro Ma che tu è coglione Cosa stai dicendo Effettivamente Se tu la vivi Con la testa sua Che io Che sono molto diverso La chiamo Gioia ingiustificata Verso la vita Però Non è ingiustificata È la vita Esatto Cazzo Allora quella cosa Assume un senso Cioè è ovvio Che se tu vedi La vita come una merda Vuoi trovare il marcio In tutto Il potere della condivisione Diventa il potere Della condivisione Diventa il sesto potere Se tu invece La vedi Con un'altra prospettiva Diventa il potere Della condivisione Martin dice sempre È tutto puro Agli occhi dei puri Esatto Omnia munda mundis Sì Eh beh Dipende però Cioè Nel senso Non è Non do adito Alla critica Alla venalità Del condividere Perché quello Non mi interessa Però la condivisione È sempre Un'approssimazione Un racconto Che decidi di fare Della realtà Quando spesso La realtà ti dà La sensazione Di una precarietà Tale che È già tanto Che stia su Già il racconto Che ne fai Diventa Una roba terza Certo Quindi ci vuole Un enorme disincanto Laddove La stessa realtà Spesso ti dice Che non vuole essere raccontata Quindi per molti c'è Per molti c'è il pudore Proprio Di fare un racconto Certo Della propria vita O in generale Di quello che avviene Nel mondo Che magari È un eccesso Ma anche Dall'altra parte Certo Parliamo sempre Di due estremi Ma è assolutamente Così Cioè Vuoi C'è del narcisismo Di fondo In tutto Questo Anche in tutto Questo C'è del narcisismo C'è la madonna Sì Potevano farlo solo audio Questo podcast Bisogna accettarlo In qualche modo E fare di necessità virtù Almeno Poi dipende dal punto di vista Che si ha Io Cioè Non lo so Però Viviamo in un mondo Che nel bene o nel male È così In parte preponderante È un mondo È un mondo È un mondo È una fetta di mondo Che segue queste regole Si è deciso Che questo racconto Possiamo dire che Questo è È la fetta più grande Della torta No Secondo me Noi siamo qui A distrarre le masse Mentre chi fa Le vere cose E i veri soldi E la vera influenza I veri influencer Non li conosce nessuno Certo Ma io stavo dicendo Chi Da noi Chi lo fa più o meno Ma che siamo sui social E siamo La nostra vita È stata cambiata In qualche modo Dall'avvento Dei social network Ok Siamo La fetta Più grande della torta Possiamo dirlo Decidono l'intrattenimento No in generale Anche Ricco Anche la mia assistente In cosa Sono sui social network Pubblicano Anche se pubblichi una foto Fai parte di quel Di quel mondo Sì ma Il racconto Il racconto che fai di te Non è detto che sia Lo stesso racconto Non è detto che racconti il mondo Questo voglio dire Racconti il tuo mondo Ah beh certo Ma Per me c'è di mezzo Una sorta di Fraintendimento Spesso Per il quale Chi racconta Se stesso Sta in realtà Raccontando il mondo Di chi lo ascolta E chi l'ha detto Eh sì Perché tu fai le storie in cinese Ma anche soltanto Il discorso Dell'emulazione Del dare il buon esempio No? È come dire Guardate Questo mio mondo In parte È anche il vostro È il mondo giusto Quindi io mi comporto così Così potreste fare anche voi Io liquiderei L'argomento social Per passare ad un altro argomento Che è Ma fare l'imprenditrice digitale Sì Ti fa scopare di più? Sguardi intensi? Sì molto Molto di più Molto di più Mi sento proprio una figa Cosa hai detto? Mi sento molto una figa A dire imprenditrice digitale Sono proprio Proprio un'intonazione diversa No invece no A parte di scherzi Volevo parlare di una cosa Che è un tema incredibile Che non c'entra con i social Che è il tema Della visualizzazione Cioè Una chiave Della realizzazione Beh sì Credo sì La legge d'attrazione Della realizzazione Lavorativa Di Chiara È E anche personale È il tema Della visualizzazione Tramite delle liste Che è una cosa Che fa anche Luis O della Chiara che vorrei O della Chiara che vorrei Bellissimo Sembra un po' una pazza Soprattutto quando dico La Chiara che vorrei Che non è altro Che una declinazione Della legge Della attrazione Legge di reciproca attrazione Perché dici reciproca Legge d'attrazione No è legge Della reciproca attrazione Io non ti ho mai corretto Su sta cosa Ma è legge d'attrazione Dubito sia una legge Gli hanno dato il nome di legge Per darsi un tono Legge della reciproca attrazione È così Troppo Perché devi complicare Guarda Legge di attrazione Scrivi reciproca Reciproca Perché è reciproca Poi un principio Ma no Non è scientifico Ma no Non è scientifico È un sogno No guarda No amore Hai sbagliato Ok me la sono inventata Vabbè Quella roba lì La legge dell'attrazione Vabbè comunque io Nei momenti più Magari difficili O comunque No non mi sento Ok In cui mi sentivo Magari più sola A Los Angeles Comunque magari Ho passato dei periodi Che non erano proprio Iper felici Ho cominciato a pensare A come potevo modificare Il modo in cui stavo Perché naturalmente Non ero completamente Soddisfatta Della mia esistenza In quel momento E ho pensato Vabbè Cosa sono le cose Che non mi fanno felice In questo momento Quindi ho cominciato Una lista Delle cose Che non mi piacevano Di me stessa O delle cose Attorno a me Che non mi piacevano Come si comportavano Gli altri Come mi comportavo io E da lì Ho cominciato A pensare Prima di tutto Vabbè Credo tantissimo Nelle liste Ma quello lo facevo Già da prima Quindi di Qualsiasi obiettivo Nella tua vita Scriverselo Fare liste Di qualsiasi cosa Cioè io ho le liste Degli obiettivi Per mesi Per anni Cioè per anni Adesso fino all'anno dopo Posso farle vedere Poi le censuriamo No 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 Ma no Perché tanto C'è le censuri Non fare Sono così La classificazione Guarda quante sono Guarda quante sono C'è anche una Sogni Ma sogni Sono le cose Che sogno Proprio di notte Che sono pazze E quindi me le segno Quando me le ricordo E No vabbè In questo momento Ho cominciato a pensare Alla Chiara Che vorrei Che è una versione Perfetta di te Però No perfetta È una versione migliore Di te La versione migliore Di te stessa Che non è perfetta No non è perfetta Perché nella persona Che tu vorresti essere Non penso Che nessuno Voglia essere Al 100% perfetta Cioè perfetta Secondo quali canoni Capito Secondo i tuoi canoni Sì è giusto Cioè nel senso Che io non voglio essere La persona sempre Educata con tutti Cioè nel senso Io voglio essere Che se uno Mi manca di rispetto Lo vanti a fare in culo No esatto Cioè io voglio avere Carattere Capito Per esempio Perché io sono così E quindi voglio essere La chiara che vorrei Si comporti in quella maniera Quindi ho cominciato a pensare In tanti momenti In cui mi sentivo Magari perdere la pazienza O mi sentivo giù O reagivo in un modo Magari impulsivo Cominciato a pensare Ok ma la persona Che io vorrei essere Come dovrebbe reagire E quindi pensavo Alla chiara che vorrei Questa cosa neanche importerebbe Proprio non sarebbe un problema Neanche Neanche ci penserebbe E quindi mi sforzavo Di reagire nella stessa maniera E quindi questa cosa Mi ha aiutato molto In tante piccole cose In cui magari ero Più istintiva Impulsiva E magari mi incavolavo Facevo un casino Di una cosa Che in realtà era piccola E pian piano Nel senso Ed è proprio la visione Perfetta che tu hai Di te stesso Cioè la tua visione Migliore Della persona Che vorresti essere Ma è tipo un lavoro Di miglioramento O di recupero Di miglioramento Penso Cioè perché io Nel senso Mi sento migliorata Negli anni Non solo tramite questa cosa Ma il fatto di cercare Io comunque un po' Una ossessione Spero positiva Però di diventare Sempre migliore Però migliore Per i miei canoni Non per i canoni Per forza della società Perché ci sono delle cose Che magari io faccio Che per gli altri Possono non essere giuste Ma fanno parte Del mio carattere Io voglio essere così Va a sparare alle pantegane Non dire queste cose La gente ci crede Dai Per questo che ti dicevo Lavoro di recupero Perché se sono parte Del tuo carattere Ogni volta Vai a indagare Quello che già sei Quindi cerchi di scartare Quelle Magari quelle cose Che non fanno parte di te Per avere una visione Magari hanno fatto parte di me Però mi hanno portato problemi Quindi nel senso Per migliorare La mia situazione Per essere più felice Se io imparo Che da una certa persona Che mi delude Io mi incavolo E poi reagisco In maniera esagerata Se imparo invece A fregarmene Per esempio In quella situazione Probabilmente Vivrò meglio In tante situazioni Così vivo meglio Oggettivamente Quindi questa è stata Una grande Però sembra un po' da pazzo Quando racconti La Chiara che vorrei È un bellissimo esercizio Però è bello È una cosa facile Che chiunque può fare Poi non sempre Ancora adesso Ci sono certe volte Che dico Chiara che vorrei E poi non ce la faccio E sbrocco Principalmente con due persone Cioè Fede e mia mamma Sono le persone Che mi fanno sbroccare E più degli altri Tu stai impedendo La Chiara che vorrebbe Di uscire No vabbè Ogni tanto riesco Però ogni tanto Vabbè le persone Le persone importanti Della tua vita Comunque sono quelle Che ti fanno incavolare Alla fine Però in generale In tante situazioni Ti aiuta veramente A risolvere le cose In maniera In maniera Più efficace Per Per la tua sanità mentale Probabilmente Sì Cioè per essere sani È come se ti dovessi Diventare bipolare Più o meno Sì Infatti La questione Di provare a uscire Dal tuo corpo E comandarti Io faccio così Vabbè vedi Cioè Cioè la racconta No vabbè niente Ressisci dal tuo corpo È un strumento Di te stesso Cioè sì È come se Io in situazioni Complicate O anche faticose Vado indietro Come se fossi In un videogioco Con la mente Prospettiva da dietro Con la mente E mi controllo il corpo Come se non avesse Come se io non avessi pericoli Io non corro pericoli Il mio corpo Non corre pericoli Anzi Il mio corpo Corre pericoli La mia mente no Le persone che stanno con te Potrebbero correre Sì infatti È utile in casi Di assassini Eccetera Perché tu sei lì Non ero io Non ero io È un attimo Che pensi di essere in GTA E inizi a fare una strage È un discorso simile A quello che fanno Certi fotografi di guerra Che davanti a delle scene Raccapercianti Le stanno guardando Attraverso l'obiettivo Quindi è come se non fossero lì Loro sono l'occhio Della camera Voi siete dei fotografi di guerra E' anche per questo che spesso dico Perché mi trovo qui Ma infatti Però sì Il concetto di La Chiara che vorrei Per me tornava molto sul Diventa ciò che sei Di Nice E' per questo che ti dicevo Che mi sembrava più Un lavoro di recupero Sì È sicuramente anche così Quindi È una figata Funziona comunque Cazzo guarda E la visualizzazione funziona Cioè nel senso che Io credo molto Nella legge dell'attrazione Poi però non la devi credere Come una verità assoluta Come una legge scientifica Naturalmente Però è proprio Non so come Un principio Per il quale Se tu metti Del bene nel mondo Se tu sai che certe cose positive Prima o poi ti accadranno Ah poi ne voglio raccontare un'altra Questa cosa Cioè pian piano Sai che succede Cioè tu vivi la tua vita In funzione dell'idea Che certe cose Che tu speri per te Prima o poi succederanno Quindi non la vivi Con tutte l'ansia Dell'incertezza Anche se avrai Dei momenti di incertezza E poi spesso Certe cose Cioè anche io noto Che quando ragioni così Sei positivo Non ti lasci prendere male Da qualsiasi problema Ti si palesa davanti Tanti piccoli problemi Alla fine si risolvono da soli Cioè senza che tu Magari invece Se ti fossi stato lì Avresti perso delle giornate intere Per dei problemi Che alla fine Se tu li lasci E dici ok c'è questo problema Però non è la fine del mondo Alla fine si risolve spesso Quindi io ci credo un po' Cioè non è una legge universale Certo ovvio Ma è funzionante al 100% Perché se tu visualizzi E sai quello che vuoi Inevitabilmente va in quella direzione Spesso le persone sono perse Perché non vedono quello che vogliono Esatto Quello è il problema più grande Cioè non avere Non sapere dove vuoi andare O cosa vuoi fare Ma è normale anche non sapere Cioè nessuno Un'altra grande verità Che mi aveva detto Non mi ricordo chi però Io No Mi ha detto qualcuno anni fa Diceva Tu devi sempre pensare Che nessuno Cioè è una cosa Che infatti vorrei sempre dire Alla me più giovane Che è normale Non sapere cosa succederà È normale non avere Le idee confuse Cioè nel senso Perché tutti Cioè tutti Quando tu vedi una persona Che ha le idee chiare Sul proprio futuro Ti senti un po' uno sfigato Se tu non ce l'hai Allo stesso modo Capito E invece anche quella persona Probabilmente è confusa Su certe cose Però nel senso È bello anche il cammino È bello il viaggio Pensate a quello Che aveva Facebook A Milano Però lo sapeva Aveva la nostra età Noi andavamo alle superiori E sembrava la persona Alla mia età Alla tua età Cioè sembrava realizzatissimo E sembrava avere Le idee chiarissime No ma magari lo è Poi alla fine Vabbè niente Non esempio del cazzo Cos'altro volevi dire Un'altra cosa Un'altra costruzione mentale Non so se si può descrivere così Vai Che mi piace Che ho fatto in quel periodo lì Del 2016 È Movie of my life Te lo ricordi? No Te l'ho già raccontato Il film della mia vita? Sì il film della mia vita Cioè Che in tante situazioni E ho parlato anche con il mio psichiatra Ho detto che è un ottimo esercizio mentale In tante situazioni Io non la so sta roba No dai te l'ho raccontata Ma quando? Vabbè che sembra un po' pazza Però ho cominciato In quell'anno in cui Ero un po' sfigata Cioè non mi sono successe grosse sfighe Però tante piccole sfighe Una dietro l'altra Che dava un po' per scontare Un periodo no Un periodo no Come ci sono sempre per chiunque Poi sai Quando ti arriva una sfiga Te ne arrivano cento E avevo cominciato a Oltre a pensare alla Chiara Che vorrei per come comportarmi A vivere le sfighe Del tipo Ok però se io fossi un personaggio Di un film Non potrebbe tutto andarmi bene Perché sennò la gente Non empatizzerebbe con me no Cioè il fatto che mi succedono tante sfighe Fa ridere Cioè nel senso piace alle persone E quindi va bene Proprio come se fossi in un film Che è come uscire dal corpo Quello che diceva da lui Lui E un po' uscire dal corpo E vedere la tua vita come una trama Una sceneggiatura Nel senso che Nel senso quando E adesso ancora lo utilizzo In certe Cioè lo utilizzo Sembro pazza Per parlare così Però in tanti momenti In cui capito Ma dalla cosa più stupida Come arrivi in aeroporto Hai uno shooting importante E non c'è la valigia Cioè nel senso Invece di incazzare Questi sono i problemi No no Sono diversi Questo è il problema più stupido Sì 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 Però succede sta cosa Dici vabbè Se fosse stato un film Un telefilm Sarebbe successa sta cosa Era capito Il climax Per vedere Oh come risolviamo sta cosa E quindi Nel senso I piccoli problemi Poi anche quelli più grandi Però magari quelli Funzionano di più Sui problemi piccoli Probabilmente Sai cos'è Ricordati quel detto Qual è Lo diciamo insieme E qual è Nick Che ci aveva detto Nick Ah sì Vai al tre al tre Ma in inglese Sì in inglese Ok Uno Due Tre Nobody Cuse Cuse Era cueing No Cuse Ok ok In inglese Uno Due Tre Nobody Cuse For a flat roller coaster Che vuol dire Che vuol dire Nessuno fa la fila Per delle montagne russe piatte Eh dipende Io oggi ho preso un treno Che un po' Una montagna russa piacere Per dire Cioè Chi farebbe la fila A Disneyland E la vita è bella Perché è così Ma sì Cioè che anche nei momenti negativi Comunque devi pensare Che poi ci saranno altre cose positive E non devi lasciarti abbattere Perché oggettivamente Succedono tutti i momenti No Cioè nel senso è proprio Ma un amare Nel senso anche la vita Anche per i momenti negativi Che ti dà Perché ti saranno di lezione Cioè sembra un po' Ritorico detto così Però alla fine Le cose più Tante delle cose più importanti Che facciamo Derivano da momenti no Secondo me No Cioè per me è stato Tante tante delle cose Che ho fatto Le ho fatte perché Non mi sentivo all'altezza Non mi sentivo brava Un momento Mi sentivo soffrire Quindi questa cosa Mi ha portato a rivalutare Me stessa Le cose che facevo In modo diverso Comunque sono Ti fanno Sicuramente crescere di più I momenti no Che tutti i momenti sì Quindi Poi quando sei in un momento sì Non può che andare giù Esatto Quando sei in un momento no Torna giù Sì Poi però non devi vederla così Sennò sei sempre in ansia Che succeda qualcosa di negativo No 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 Però la goduria sta nel Nel riuscire a godere Del momento no Quella è la felicità Sì sì Se puoi fai partire Il momento no Quello è matochismo però No Se puoi fai partire Il momento no Con il momento in cui sei nato Hai risolto Sì Da lì Sei completo E c'è il trauma Sei risoluto Però davvero Tu apprezzi anche E ti Come si dice Ti immergi In qualsiasi Siano I tuoi sentimenti Sì cioè nel senso È bello Esplorarli Ogni tanto fanno Nel senso Ogni tanto stai male Come naturalmente Tutti quanti Però boh Nel senso Ho sempre questa Forse come la descrive lui Gioia ingiustificata Versa la vita La vedo un po' Come un mistero Nel senso Dico sempre Chissà cosa succederà adesso Capito Cioè sono anche un po' curiosa Di vedere qual è Il next step Positivo Negativo Sì Cioè nel senso Che dico Cioè non sono Troppo positiva Da pensare Sarà tutto perfetto No Ci saranno mille Mille problemi Alcuni saranno Problemi stupidi Ci saranno anche Problemi più importanti Più gravi Che preferiresti Non affrontare Però la vita È anche questo Capito Cioè è il fatto Di dire Ok Riuscirò comunque In qualche modo Ad affrontarli Avere Forse non l'ansia Di procedere Ok Qualsiasi problema Ci sarà Ci saranno nella mia vita Come ci sono nella vita Di chiunque Però avrò gli strumenti Mentali Per affrontarli Esatto Non avere assolutamente Paura di fallimento Cioè se dovessi Andare in bancarotta Penso Ok Davvero Pensi proprio Sono pronto Anche a quello Perché tanto Se ce l'hai fatta E soprattutto ora Che è il bagaglio culturale È dura Che si dimentichi A meno che non sbatti Forte la testa Eh sì Però di base Non importa Quante volte cadi Ma quante volte Riuscirai a rialzarti Non importa L'importante Non è la caduta Ma l'atterraggio Atterrare con stile Fino a qui Tutto bene L'odio È andata Doveva andare così Fratelli Esatto In Italia Fino a 30 40 anni fa Idealmente sì Andiamo a cercare Sì Non è colpa nostra Comunque No vabbè Però diciamo Un paese Che per Tanto tempo Ha avuto Non ha dato Molto spazio Alle donne Ad oggi È un dibattito Molto caldo Cioè quello Del Delle donne Che non riescono A ritagliarsi O non gli viene Non le viene Non viene loro Non viene loro dato Lo spazio Che meritano Tu ti sei mai Sentita discriminata In quanto donna Cioè tu sei Comunque un'imprenditrice Di successo Ti sei sentita Relegata Messa da parte No io devo dire Che mi sono sentita Più Messa da parte Così all'inizio Perché ero giovane Magari Perché facevo Una cosa nuova Più che essere donna Però perché io lavoro Ho lavorato Principalmente Nell'ambiente moda Che è molto Donna anche Quindi su quello Cioè nel senso Ci sono tante donne Mi sono sentita meno Poi forse anche Proprio una mia condizione Non lo so Personale Per cui grazie Comunque A mia mamma Grazie alle mie esperienze Cioè una cosa Che io ho sempre avuto Ho sempre avuto Una grande Self confidence Come si chiede Sicurezza Sicurezza in me stessa Cioè ho avuto Tantissime insicurezze Come chiunque Però ho sempre pensato Comunque di avere un valore Comunque non mi sono mai sentita Da meno di nessuno Più o meno Cioè nel senso Valutando tutte le altre persone Al mio livello Cioè non è che mi sento Superiore agli altri Però Non lo so Mi sono sempre sentita Che se io entravo in una stanza Tanta gente poteva darmi qualcosa Ma anch'io potevo dare qualcosa Non mi sono mai sentita Insignificante per gli altri In qualche modo E quindi questa cosa L'ho provata di meno Però io sono veramente Un caso speciale Perché nella maggior parte Dei casi Invece non è così Proprio Guarda Sono stata insicura Di mille cose Ancora adesso Cioè se io Mi Nel senso Ti guardi allo specchio O pensi alla persona Che sei Non ti vedi Perciò secondo me Veramente Come dicevo prima La cosa più importante E ne parlavo oggi Che era tutto interviste Principalmente beauty Cioè la cosa più importante Quando ti chiedono Qual è il tuo beauty secret Cioè Non esiste un beauty secret Alla fine Cioè veramente È trovare qualcosa Che funziona per te Che ti faccia stare bene Secondo me La bellezza è veramente La self confidence Che hai La sicurezza in te stesso Che poi si Tramuta comunque In come tu ti atteggi Con gli altri E quello fa tantissimo Capito Cioè il fatto Che tu non devi Veramente essere Una top model Per sentirti una figa Cioè nel senso Tu devi essere sicura E sicura Lo riesci a essere Secondo me Quando tu parti Dall'idea Che non esiste Una perfezione Che anche le persone Che tu vedi Su Instagram O anche nella realtà E dici Wow Che figa quella Cioè guarda Com'è bella È perfetta La vita è perfetta Cioè anche loro Si vedono Il culo grosso E la smagliatura E la cellulite E il brufo Cioè qualsiasi cosa Ognuno di noi Vorrebbe migliorare qualcosa Quando si guarda allo specchio Però proprio Quando tu cambi Da dire Oddio Che brutto Cioè nel senso Che ho la cellulite lì Da dire Vabbè ho la cellulite lì Sti cazzi C'erano tutti Sti cazzi C'erano tante persone Cioè da lì Poi ne puoi fare Vedi il tuo corpo In maniera diversa Cioè io anch'io Ci sono dei momenti Anche la percezione Di quello che per te È un difetto Poi se per te non lo è Anche la percezione Delle persone Sarà che non hai Quello difetto Sì esatto Ma è tutto Se tu ti senti Molto spesso No però è vero Se tu ti senti Cioè ti atteggi Da persona sicura Di te stessa Perché lo sei Cioè anche gli altri Ti vedono in modo diverso Dai un'idea di te Diversa comunque Non è una cosa fake È proprio l'idea di Cavolo questa è la bellezza E la bellezza non è Un determinato canone Adesso poi più che mai Questa è una cosa bella Che tutti i canoni estetici Stanno cambiando E adesso è Si va sempre di più Verso una democratizzazione Della bellezza Però è proprio Cioè non è neanche Veramente un estetismo Poi certo che A uno piace Essere truccato bene Essere vestito bene Essere se no Siamo tutti Cioè io sono molto Narcisista Se no non farei Il lavoro che faccio Anche Però veramente Io ci sono dei giorni Che sono Super naturale Quasi struccata Con la tuta E mi sento Più figa Di quando sono Super tirato Comunque mi sento Uguale allo stesso modo Perché sono sempre io E non so È bello che La tua personalità Parla anche un po' per te Cioè proprio questa Che forse era Un mio problema Anche prima Cioè il fatto che Prima cercavi sempre Una certa idea Di perfezione di te stesso Mentre invece di cercare Di migliorare Quello che sei Cercavi sempre Cavolo io devo essere perfetta Devo avere la pelle perfetta Devo essere magra così Devo avere i capelli Fatti in questo modo Invece quando capisci Forse anche perché In certe cose le ho provate Cioè nel senso Che anni fa Ero più magra Senza aver mai avuto Problemi Però nel senso Stavo più attenta A quello che mangiavo Eccetera Probabilmente perché Mentalmente pensavo Se sono più magra Sono più felice E sono tutte mancanze Alla fine quelle Una volta che arrivi lì Scopri Ma le cose sono uguali A prima Non sono più felice Veramente Ti cambia tutto E anzi adesso Nel senso Ho preso Cioè nel senso Anche quando prendi I chili in la gravidanza Prendi chili in quarantena Ma qualsiasi momento Chi se ne frega Cioè non è quella La cosa importante Cioè proprio I chili si prendono Si perdono Tu è proprio Il lavorare sulla tua mente Sul tuo modo Di vedere te stesso Ed è molto importante Anche questo un po' retorico Sembra però Guardarsi allo specchio E non guardare i difetti Oppure li guardi Quelli che sono difetti E dici Wow mi è venuto un brufolo Vabbè amen Chi se ne frega Cioè È questo approccio Invece di dire Cazzo no Adesso come faccio Adesso uno noterà Questa cosa qua Noterà che sono ingrassata Noterà che ho i capelli fatti male Cioè no Non esiste questa cosa Se non esiste per te Nella maggior parte dei casi Non esiste neanche per gli altri A hundred percent Ragazzi Come è stata? Abbiamo avuto con noi Chiara Ferragni A cui farei un applauso Bravissima Grazie Sei una donna da sposare Devo dire Grazie davvero Sì Grazie Sì ti auguro di trovare Un marito al più presto Sì Alla tua altezza Sì Sì Che ti faccia apprezzare Le piccole cose Piccole cose Oddio Molto piccole Ragazzi Si conclude La prima stagione Di Muschio Selvaggio Muschio Selvaggio Ragazzi Che emozione Vorrei fare Possiamo discutere Possiamo commuoverci Sì perché Allora Questa cosa è nata Ognuno ha le sue motivazioni Tre persone Molto diverse tra loro Con tre motivazioni Molto diverse tra loro Che però hanno creato Un piccolo angolo Di libertà Un debito Incredibile Che non verrà mai colmato Probabilmente Ma Abbiamo fatto delle figate Abbiamo portato contenuti Allora Posso svelarvi un segreto Nella sigla 20 minuti Aspetta Quale il segreto Il segreto è 20 minuti Un'ora di argomenti Nella sigla Vuol dire 20 minuti Trattino Un'ora Vuol dire Che Dai 20 minuti All'ora di argomenti Che i video possono durare O 20 minuti O un'ora No ma in realtà Nel senso È un po' come dire Un po' così Sì era per dire Cacciara Sì dai La sigla di Muschio Selvaggio Non è altro Che una presentazione Che Luis ha fatto Per dei brand Che non sono mai arrivati Per cercare di fare dei soldi Con questa cosa Che non sono mai arrivati Non sono mai arrivati Perché io di solito Non faccio pubblicità su YouTube Quindi sono spaventati da me Esatto E non si sono mai fatti avanti Ma a noi non ce ne frega niente Cioè questo Adesso dobbiamo fare dei soldi No sapete sì Alla seconda stagione Faremo un sacco di marchette Inizieremo le puntate Dicendo questa puntata È sponsorizzata Da questa puntata Però anche se non dovesse essere Questo Questo è il lusso ragazzi Sapete cos'è questa? È libertà Bellissimo La stai copiando Incollando quello che dico Come star sopra un albero Non è neanche Il volo di un moscone Ci vediamo E vabbè Di qualcosa anche tu Dite qualcosa anche voi Io sono contento L'idea di questo podcast era Per me Di avere un luogo dove dormire A Milano E anche di imparare un po' a parlare Mi sto sciogliendo col tempo Perché lui senza il montaggio Non esiste Ma pian piano sta Sta esistendo E di base Questo è Nel senso È un'avventura È uscire dalla zona di comfort Sperimentare Incontrare Condividere E questo è quello che stiamo facendo Qua Ok Per te Martin Martin Costretto Costretto Aiutatemi Hai preso le pillole Però sì Salvaggio E ci rivediamo a settembre Con la seconda stagione Ciao Aspetta 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 Volevo ringraziare Leo Il nostro cameraman Lorenzo Il nostro montatore Faccio una foto A Leo Un mini video A Leo Ok Tra l'altro voglio dire A sua discolpa Se fa le riprese che vomita A noi Perché gliel'abbiamo chiesto A noi Perché gli abbiamo detto Di copiare le riprese Del podcast di Logan Paul Ok Questa è la verità E spacca Lorenzo Esatto Bravissimo Ciao Lorenzo Il nostro montatore Lorenzo esatto Basta Ricco No 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 beh abbiamo Basta Non piangete Perché finiamo qui Ma sorridete Perché è successo Esatto Probabilmente pubblicheremo Degli highlights Dei bloopers No non lo diciamo Non dirlo Andate a fare in culo Ciao Muschio selvaggio Podcast più fico Luis Federico Un tavolo triangolare Muschio microbe Camera e luci Aspiti diversi Tanti nuovi amici 20 minuti E un'ora dei commenti Muschio selvaggio Idromassaggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti